va giusto a scendere in mezzo che la dove scendevi il tetto sembri l'acqua no a noi la tocca sotto tocchi dovresti allungarla e poi tirarla fuori come arrivi così tu non l'allunghi più tre volte l'hai fatta così è che l'allunghi ma rischia di passare fuori questo è qua ci passiamo giusto si così è tu dice fai il parziale di lì vai io gli ho detto arriviamo lì facciamo tutte e due o se la scivola lo so lo devi prendere un po' più lungo e accompagnarla su secondo me va che col sesso è più facile secondo me è più facile con quel sesso lì potrebbe anche essere e questo ecco dovreste essere lì così e farlo bene lunga e esci 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 adesso vedi stefano come te la vola via io così non posso farla perché non ci arrivo cazzo qua che piano non raspone o trapone di un trapone se il peso del trapone te cazzo allora se però calcola una cosa che sia tocchi il davanti sulla c'è il culo che sei bruciato è se se ti se ti batte un po le forze torni indietro e occhio ha acceso il tratturo sentilo lì e io facevo più fatica lì stai attento adesso se spampi la fa dopo gli diciamo io così mi cago ad osso a farla così è giusta così è giusta via anche qua lungo no lì no lì quando abbiamo finito a spampi gli diciamo il contrario senti le bestemmi che ti tirano stai attento quando ha finito no questa la facciamo anche è quello lì che cazzo scende al contrario ti scorni contro il tronco sicuro a meno che hai il pelo di farlo e buttare giù davanti sul sasso e lasci scappare sperando che non si ferma niente perché se si ferma il culo sul sasso sei morto stavo dicendo che cacchio arriva sei più in là sei più in là alle metti di là che arriva spampi no più in là più in là e ciao non gli dama neanche lui oh non vuoi fare il sasso giraci intorno scendi la fai più contorta è uguale è così diventa tosta però Ale chi non lo vuol fare il sasso ci gira intorno esatto stai dentro lì e vai a fare l'ultimo pezzo io non lo faccio perché non riesco a fare così così e prova eh prova in contropendenza così voglio vederti fa un bagno cazzo pensavo che stava fuori il sole andavamo giù vabbè 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 appena fai la curva la tieni e lo fai continuo se ti fermi sei fregato invece la continui tutta lo fai e lo allunghi fuori tanto il davanti si ferma così non lo farai mai andiamo a fare la scaletta per favore hanno deciso che vogliono andare a fare la scaletta 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 il pietro non è amante di queste cose